l'aggancio in avanti ancora verso Strotman, è ottimo l'aggancio di Strotman, si avvicina l'area di rigore Strotman provaci, maledizione, tocco per Bradley, il tiro, GOOOOO, 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 L'AX LUTOR, L'AX LUTOR, L'AX LUTOR vai che te ricrescono i capelli stasera, vai che te ricrescono i capelli, il gol di Bradley, il gol di Bradley primo gol, la Roma che passa in vantaggio